Ti voglio parlare delle ciglia, sono struccata, sì, ma parliamo delle ciglia. Le ciglia hanno un ruolo importantissimo, perché che cosa fanno? Proteggono il nostro occhio da tutte le polveri e da tutte le cose che si possono dar fastidio e che possono inserirsi all'interno del nostro occhio, quindi hanno una sorta di protezione. Molto spesso noi utilizziamo il mascara, un elemento che aiuta a dare spicco e a dare bellezza ai nostri occhi, alle nostre ciglia e ai nostri make-up, perché l'aspetto più lungo e incurvato permette di ottenere uno sguardo molto più attraente. Alcuni fattori nella nostra vita tendono a indebolirsi, come potrebbero essere i capelli o anche le ciglia, fino a volte a produrne una caduta anche eccessiva. Da che cosa è dato questo? Da diversi fattori. Il primo è alla sera, non ti strucchi, il mascara. Il mascara va sempre, sempre rimosso, con un prodotto delicato, non aggressivo per gli occhi, ma bisogna assolutamente togliere il mascara prima di andare a letto. Quante volte sei andata a letto con il mascara? Scrivilo nei commenti, perché credo che diverse volte magari sei andata a letto perché sei stanca, perché sei sfinita da tutta la giornata, tutte le pesantezze del giorno e hai ancora il trucco, magari hai solo messo il mascara e vai a letto con il mascara. Questo è uno dei fattori principali che con il tempo può indebolire le tue ciglia, fino ad arrivare a farle cadere. Quindi cerca di struccare sempre il mascara la sera prima di andare a letto, sempre. È un consiglio. Usare dei prodotti delicati per le ciglia, ma anche dei mascara che possono dare dei trattamenti, quindi dei mascara idratanti. Questo è importante. Puoi anche utilizzare un siero ciglia, che ti può aiutare, sia grazie all'utilizzo di mascara che lavora in affinità con questo siero, a potenziare proprio l'idratazione dei mascara. Quindi le tue ciglia con il tempo potrebbero avere dei risultati molto più belli, più visibili. Un altro fattore potrebbe essere lo stress, che porta a questo indebolimento, sia dei capelli che anche delle ciglia. Un altro fattore potrebbero essere delle carenze nutrizionali dell'alimentazione. Potrebbe essere anche un fattore ormonale. Ci possono essere dei periodi in cui magari abbiamo dei valori che magari non sono sempre equilibrati tra loro. Le carenze nutrizionali possono essere la vitamina A, la vitamina B, la vitamina E, carenza di magnesio e di ferro, di acidi grassi omega 3, di proteine che il nostro corpo ha bisogno, oppure, come ti dicevo prima, di un cambiamento ormonale, che può indebolire sia i capelli che anche le ciglia. Ma la cosa più importante che ti voglio comunicare in questo messaggio, alla sera prima di andare a letto, strucca sempre le tue ciglia. Togli assolutamente il mascara e poi vai a letto dopo la tua skin care. Ti auguro una buona giornata e spero che questi consigli possano esserti utili. Questi consigli sono dati dalla mia esperienza personale e se vuoi contattarmi sono reperibili al 347 5702191. Ciao!